90 minuti, gli ultimi del trittico in otto giorni, i penultimi del girone d'andata. 90 minuti che per molte realtà del girone H assumono significati particolari, sia per chi lotta per obiettivi più importanti, sia per chi deve riscattare le ultime parentesi negative. Due aspetti che riguardano contemporaneamente il casarano di Senalfanuzzi nel derby contro il Brindisi. I rossazzurri, dopo due rinvii consecutivi per Covid, tornano in campo domani a distanza di due settimane dalla sconfitta interna con il Picerno. Non guarda più tutte le rivali dall'alto verso il basso, la compagine di Vincenzo Feula, che però ha giocato partito in meno rispetto a tutte le squadre che la precedono in graduatoria, fondamentali. In ogni caso, tornare al successo vuole provarci però. Pure il Brindisi, a cui l'appuntamento con i tre punti manca da cinque incontri, non ha mai smesso di credere nel massimo obiettivo, nonostante il notevole ritardo in classifica il Bitonto, che dopo il blitz nell'infrasettimanale di Gravina è atteso da un altro derby di Puglia domani al Città degli Ulivi contro un Ardò che ha privato della leadership in Lavello e non perde da cinque partite. Quattro successi e tre pareggi, due reti in sette gare giocate al Paolo Poli, sono i numeri di spessore del Molfetta nella versione casalinga. Domani arriva il Portici per provare a prolungare il trend positivo. Vuole tornare a vincere in trasferta, non lo fa da quattro gare esterne consecutive. Il team Altamura, passare a Francavilla sul Sinni, significherebbe confermarsi dei quartieri altissimi della graduatoria. La prima della classe, il Picerno dovrà vedersela contro un fasano che ha dato segnali di vita battendo il Cerignola, Biancazzurri per nulla rassegnati a un campionato anonimo. Derby campano tra Putiolana e Real Aversa, mentre la nona sfida in scaletta nel sedicesimo turno, quella tra Sorrento e Gravina, non si giocherà per casi di Covid tra i costieri.